Se c'è troppa gente c'è sempre una pista, una pista di locali capienti, design, anche perché sono qui con l'Archistar in un luogo d'arte, non possiamo dire che siamo in un luogo d'arte, ma anche al teatro un po' in maschio. Il sindaco, qual'è la novità di Napiz, tu volessi Napiz, Napiz e tu Marola in top, andiamo qui nella circolarità, no no nel senso che Napoli ma non stiamo, contaminiamo. Istanbul, non so, Algeria, Mediterraneo, bene complimenti quindi per Bologna una pizza, via Murri, la via dei grandi ristoranti e delle grandi pizzerie.